Una tra le tante leggende dello sport abruzzese presente alla 25esima edizione della Festa dello Sport Memorial Italiano Patricelli. Si tratta di Marco D'Altrui che nella palla nuota ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere. Intanto un premio più che meritato. Ti ringrazio, ma voglio dire che la palla nuota è comunque uno sport di squadra, quindi se ho vinto in merito anche i miei compagni di squadra. Tre scudetti, una Coppa dei Campioni, un'Olimpiade a Barcellona, tanti titoli a livello internazionale. Ma qual è quello che ricordi con maggiore affetto, con maggiore attenzione? Innanzitutto i scudetti che abbiamo vinto qui a Pescara perché ormai sono da tanti anni che sto qui e quindi ho ancora i miei compagni, gli ex compagni di squadra. Però chiaramente la vittoria più importante per me è stata quella delle Olimpiadi perché poi considerando anche il fatto della famiglia che mio padre, insomma, come allenatore di pallo a nuoto, poi vinse anche lui a Roma nel 60, le Olimpiadi. Insomma, è stato per me sempre un sogno da cercare di realizzare. Tanti anni di onorata carriera ma il 1987 si ricorderà per sempre, il triplete, vale a dire scudetto, Coppa dei Campioni e Supercoppa Italiana. Che ricordi hai di quell'anno? Beh, quando si vince sono sempre ricordi bellissimi che non si scordano più quei periodi. Certo, quello è stato un periodo importante, la palla a nuoto andava molto bene, ma non solo la palla a nuoto, lo sport in generale qui a Pescara andava bene. Mi ricordo molti tifosi venivano prima, andavano a seguire la partita di calcio, poi andavano a vedere la palla a canestro e poi venivano da noi. Quindi era stato un periodo d'oro, insomma, per lo sport. Tante partite da ricordare, però inutile nasconderlo dietro il dito, la vittoria alle Olimpiadi di Barcellona, marcando alla grande il più grande talento della palla a nuoto di tutti i tempi, Manel Estiarte. D'altronde un fatto che poi hai ripetuto in occasione dei mondiali, dove proprio con la Spagna ti toccò marcare Manel Estiarte. Sì, diciamo, quello fu un periodo d'oro per la palla a nuoto. In tre anni vincevamo appunto le Olimpiadi mondiali e gli europei. Devo dire che per me, come difensore, sicuramente è stato più semplice marcare Manel, il mio amico Manel, perché comunque lo avevo anche come compagno di squadra qui a Pescara e quindi lo conoscevo bene, insomma, come si muoveva.